Siamo all'interno degli uffici di Opera Barga e da qui che viene organizzato il festival, festival che va avanti ormai da 46 anni, quest'anno siamo giunti alla 46esima edizione e Giancarlo Morganti ha attraversato tutta questa storia, cerchiamo di capire un po' di più di questa manifestazione, come è nata soprattutto l'idea di realizzare un festival Opera Barga? L'idea di organizzare un festival Opera Barga è nata soprattutto da una coppia di signori inglesi che si sono arrivati a Barga, se ne sono innamorati, hanno visto il teatro dei differenti che era lasciato un pochino a se stesso e gli venne l'idea di farlo rivivere, rivivere con un'attività musicale rivolta ai giovani, alle riscoperte e a questo posto che ritenevano magnifico e che è magnifico, perciò si sono fermati e piano piano dal 1964-65 è cominciato il lavoro per rianimare questa struttura che è bellissima, un classico teatro del Settecento, con l'aiuto anche e l'appoggio delle famiglie che possedevano i palchetti all'interno del teatro, che poi venne acquisito in seguito dal comune e così è nata Opera Barga, il debutto nel 1967 con il primo festival. Sono passati in questi anni da Barga un'enormità di musicisti, di giovani promettenti e di grandi artisti, è stata una grande opportunità? Sì, è stata una grande opportunità per tutto e soprattutto perché Gillian Harmitage e Peter Hunt amavano i giovani e amavano che il teatro vivesse anche con i giovani e a tutto raggio, a tutto tondo, in quanto era un laboratorio non solo musicale, ma anche di scenotecnica, di luminotecnica, di tecnica teatrale, eccetera. Perciò sono passati da Barga, oltre ai cantanti, ai direttori, anche persone che poi si sono distinte nel mondo del teatro in tutta Europa. In questi anni naturalmente che il festival ha attraversato, sono cambiate tante cose, è cambiata la società, sono cambiati gli intrattenimenti, sono cambiati i rapporti fra le persone. Come è stato per voi oltrepassare tutti questi cambiamenti? È stato impegnativo e difficile perché le situazioni nell'ambito della cultura, del teatro e della musica sono sempre ballerine, sono sempre instabili e quindi poi è un settore che viene colpito allorquando ci sono delle difficoltà finanziarie. È uno dei punti che dovremmo guardare in senso generale. Chi viene a lavorare all'Opera Barga, a collaborare con voi, poi dopo si sta a un rapporto umano che va al di là degli anni e tutti i collaboratori che sono stati qui a Barga rimangono fortemente legati alla cittadina e a voi organizzatori. Sì perché è un piccolo festival e perciò è una vita familiare, una vita di scambi, sia di esperienze, sia culturali, sia di attività specifiche nell'ambito della musica ma soprattutto poi sono rapporti umani. Rapporti umani che si sviluppano delle persone, le 50, le 60 che ruotano intorno agli spettacoli, ai concerti, alle opere che vengono prodotte ma poi si amalgamano con i cittadini di Barga, con la popolazione e quindi si instaura un connubio che è molto importante anche da un punto di vista di uno scambio di conoscenza culturale tra persone che provengono da paesi e esperienze diverse.